Nel 2011 a Pordenone la raccolta dell'olio alimentare esausto è più che triplicata rispetto all'anno precedente grazie all'introduzione degli appositi contenitori stradali. Infatti i chili d'olio conferiti sono passati da 5.280 del 2010, quando il progetto di raccolta è stato avviato, ai 16.800 del 2011. Di questi ben 13.000 sono stati versati nei comodi raccoglitori che il Comune ha posizionato nei diversi quartieri della città per facilitare la vita agli utenti, altrimenti costretti a recarsi all'ecocentro di Via Nuova di Corva. Continua l'impegno dell'amministrazione comunale volto ad incrementare ulteriormente la raccolta differenziata. Proprio grazie all'introduzione dei pratici, comodi, raccoglitori stradali per l'olio alimentare esausto, la raccolta di questa frazione di rifiuti lo scorso anno è addirittura triplicata. È un risultato che ci riempie di soddisfazione ottenuto grazie alla collaborazione dei cittadini. L'intenzione è di continuare in questa direzione per cui nei prossimi mesi altri contenitori verranno collocati, verranno posizionati nei quartieri della città che attualmente sono scoperti da questo servizio. Conferire correttamente gli oli alimentari esausti è importante perché se dispersi nell'ambiente o versati in fognatura possono essere particolarmente inquinanti, invece se vengono trattati possono essere trasformati in prodotti chimici o diventare biodiesel che è un combustibile a basso impatto ambientale. Prosegue anche la distribuzione gratuita agli utenti delle pratiche tanichette da 5 litri e mezzo, munite di tappo di sicurezza e di un comodo imbuto con filtro, che possono essere ritirate al magazzino GEA presso l'ecocentro. Grazie.